La Mezzia Terme sta per chiudere definitivamente. Chiusa e esautorata l'amministrazione del Consiglio Comunale, chiusa il 90% delle strutture sportive e adesso tocca alla cultura. Chiuso il Teatro Costabile a San Biase, chiuso il Teatro Umberto a Nicastro. Ne ha subito le conseguenze un'associazione leader in Calabria nel campo culturale che si è vista la porta sbattuta in faccia per la sua stagione concertistica. Noi abbiamo avuto questa notizia a cinque giorni dal primo concerto. Tant'è vero che è la prima volta che non abbiamo fatto una conferenza stampa di presentazione perché abbiamo cercato di trovare la soluzione più adatta per questo problema. Qualcuno ci potrebbe dire come ci siamo avventurati a programmare una stagione. Noi possiamo dire che abbiamo un documento dell'ex sindaco Paolo Mascaro che ci dava la disponibilità per l'uso delle sale sia del Teatro Grandinetti per la stagione teatrale e del Teatro Umberto per la stagione musicale documento che è stato uno di quegli elementi che hanno poi consentito all'associazione Ama Calabria come alle altre associazioni di La Mezzia Terme di ottenere risultati significativi nell'ultimo avviso pubblico regionale. E se ci sono le eccellenze nell'organizzazione di spettacoli culturali a La Mezzia che così rischiano di fermarsi addirittura ci sono delle proprietà comunali di eccellenza che non possono essere utilizzate. È del tutto evidente che ci sono anche artisti che hanno accettato di venire nella nostra stagione di fama internazionale che si aspettano di poter utilizzare il pianoforte Grand Coda Stengue che è di proprietà comunale ma che lo ricordo a me stesso è l'unico pianoforte di livello internazionale presente in Calabria e si trova nel Teatro Umberto e non si può spostare quindi noi abbiamo uno strumento di grandissimo valore che per n giorni, n settimane, n mesi non sappiamo non sarà utilizzato. Questi sono problemi che vanno risolti. La Mezzia chiude. Cultura, sport, luoghi di aggregazione l'andrangheta è in civiltà e bisogna combatterla ma da adesso in poi si aggiunge come nemico da combattere l'imperizia, l'inerzia, lo scarso profilo professionale di chi dirige e ha diretto questa città.